Dopo la mostra Rimini Revisited, dedicata al nostro Marco Pesaresi, presentiamo oggi un'altra bellissima mostra dedicata a un grande lavoro, poco conosciuto, che sarà davvero un piacere scoprire, io credo, per tutti i visitatori di questa mostra, Marco Pesaresi, gli scatti di Marco Pesaresi il giorno del funerale di Federico Fellini. Trent'anni fa, 31 ottobre 1993, fu un momento molto molto toccante per la città di Rimini e per tutto il paese. Abbiamo deciso di esporre 30 scatti di Marco Pesaresi che raccontano proprio questo momento, quando Federico Fellini torna nella sua Rimini, nella sua città natale, accompagnato da 12.000 persone. Tutto il lavoro è composto da 240 scatti, tra cui 30 più rappresentativi, che raccontano proprio il dolore, l'emozione e fragilità delle persone che si uniscono in questo momento a salutare e dare l'ultimo addio al maestro. Le fotografie di Marco sicuramente erano molto forti. Sapeva sempre trovare il posto giusto dove mettersi a fotografare, perché non è semplice. Per noi, a vederle oggi, dopo tanto tempo, ci fa ritornare indietro nel tempo. E l'empatia delle persone che hanno partecipato a questo evento si vede benissimo nelle immagini che accompagnano la mostra.